Come noto per la prima volta buone notizie sul fronte delle cifre, quelle ufficiali diffuse ieri parlano di 11 decessi in più nelle ultime 24 ore portando il totale a 332 e di 30 nuovi casi di contagio in più per un totale di 2925 casi, registrando così l'incremento più basso dall'inizio dell'epidemia. La nostra provincia resta comunque quella più colpita rispetto alla popolazione con 8,1 casi positivi ogni 1000 abitanti contro il 7,9 del Lodigiano, il 5,8 del Bergamasco e il 4,7 del Bresciano. Presso l'ospedale da campo all'escritto nei parcheggi dell'ospedale maggiore di Cremona intanto si trovano ricoverati 18 pazienti col coronavirus sui 60 posti letto disponibili, mentre sono 5 i posti di terapia intensiva occupati sugli 8 disponibili. Non è ancora il caso di abbassare la guardia, avvertono i sanitari dell'ospedale di Cremona, indubbiamente rappresenta comunque quello registrato, un segnale incoraggiante, intanto anche tre alberghi nella nostra provincia potrebbero essere destinati dalla regione ad accogliere in isolamento quanti risultino positivi.